I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Siracusa hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura Aretusea nei confronti di tre catanesi e un siracusano gravemente indiziati di aver consumato in concorso una rapina all'interno di una villetta della zona affanusa a Renella nel mese di gennaio 2023 con il sequestro degli occupanti. Il provvedimento cautelare in parola compendia una complessa e articolata attività d'indagine avviata dalla compagnia di Siracusa e diretta dalla Procura. Nella circostanza i rapinatori, travisati da passamontagna e armati, dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, hanno aggredito le persone presenti, uno dei figli del proprietario e la fidanzata, e le hanno immobilizzate con delle fascette in plastica imbavagliate con del nastro adesivo. Molteplici sono state le minacce rivolte ai due malcapitati, anche mediante l'utilizzo di armi e coltelli, al fine di farsi riferire il luogo di custodia di soldi e gioielli. Dopo aver messo la casa a soccuadro, i rapinatori hanno asportato oggetti di valore e rinvenuta una cassaforte di grandi dimensioni, l'hanno caricata nel portabagagli dell'auto in loro possesso, dandosi poi alla fuga. Le vittime, dopo l'allontanamento dei rapinatori, sono riusciti a liberarsi e a chiamare il 112, consentendo ai carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa di intercettare, poco dopo, l'auto con a bordo gli stessi malviventi. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso in una rimessa di barche dove i rapinatori, sentendosi braccati, si sono dileguati a piedi, abbandonando l'auto con all'interno la cassaforte. Nella circostanza, uno dei malviventi, preso dalla fretta di abbandonare il veicolo, ha dimenticato un passamontagna ai dei guanti, grazie ai quali è stato possibile identificarlo tramite il DNA. Poco dopo gli eventi, l'intervento dei carabinieri ha consentito di recuperare la refurtiva e restituire l'autovettura, risultata rubata al proprietario.